Il sindaco Luciano Marinucci si è congratulato con il luogotenente dei Carabinieri Luigi Sicignano e i suoi militari in servizio presso la stazione di San Buceto per l'ottima attività svolta per sventare una rapina nella filiale Caripe di Via Po. Il plauso va chiaramente al luogotenente Luigi Sicignano che ha coordinato l'azione che è stata comunque tempestiva e voglio ricordare ai nostri cittadini che la prima autovolante che è arrivata sul posto è quella della locale stazione Carabinieri quindi plauso ancora al comandante e ai suoi collaboratori. Lunedì pomeriggio alle 14.40, proprio all'apertura pomeridiana della filiale i Carabinieri di San Buceto sono stati primi ad intervenire appena scattato l'allarme. I tre erano ancora in banca quando i due militari hanno opportunamente bloccato l'uscita dell'istituto di credito. I temali viventi, Mario Tucci e Luca Cataldo, 27 e 26 anni di Pescara e Marcello Mastroianni, 27enne di Monte Silvano, una volta trovati in trappola hanno preferito restituire il bottino, circa 58 mila euro, e poggiare l'arma utilizzata per la rapina una pistola semi-automatica adatta ad esplodere proiettili calibro 9. Determinante il risoluto ordine ad arrendersi intimato dai Carabinieri e i rapinatori situazione tenuta sempre sotto controllo che non ha fatto correre rischi all'incolumità degli impiegati ma anche degli stessi malviventi. Comportamento particolarmente apprezzato dal sindaco Marinucci. È sicuramente un fatto positivo perché quando succedono queste cose non si sa mai come va a finire. Sicuramente sono dei padri di famiglia quindi sapere che fanno il loro compito con grandi rischi e tutto è andato liscio, sicuramente ci fa ben pensare. Una volta usciti i Carabinieri hanno potuto contare anche sull'arrivo dei rinforzi una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Pescara e una volante della questura di Chieti che hanno ammanettato i tre malviventi. Sono accusati di tentata rapina, pluriaggravata e porto illegale di arme da fuoco. Un'operazione che conferma l'elevato livello di efficienza delle forze di polizia nel territorio provinciale ed evidenzia il perfetto raccordo di coordinamento tra l'arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Sicuramente la cosa più importante che i cittadini devono valutare è che nel momento in cui ci sono fatti criminosi di questo tipo la nostra stazione c'è. Soddisfatto il sindaco Marinucci, la sicurezza della comunità di San Giovanni Tiatino è in buone mani.